Hai segnato due grandi gol nel primo tempo, soprattutto il primo, abbiamo visto che la tua dedica è stata speciale, rivolta verso il cielo, ci tenevi tanto a fare gol oggi? Sì, sì, certo, per lo che è successo nella settimana del mio nono, ansiavo per fare il gol e anche aiutare la squadra che è lo più importante. Ti sei inventato soprattutto il secondo, un grandissimo gol, hai tolto il pallone dai piedi dell'avversario, una magia di categoria superiore probabilmente. Sì, lo senteva così, andare a pressare come aveva detto il mister prima la partita e quando lei ha rubato la palla, ho visto dal portiere in avanti, mi è uscito così, aveva fatto un grande gol. Certo, un attacco con te, con Santiago, con Leo Secondi, tutto al biseleste, promettete di dare tanto spettacolo quest'anno? Sì, sì, siamo molto contenti, lo tre avanti, siamo lo tre argentini, quindi aspettiamo di fare lo meglio possibile la settimana prossima che comincia il campionato. Sì, sì. Sì, sì.